Iniziamo da odoratorio e speriamo che vada tutto bene. Non si pensa a niente prima di un concerto, se non al fatto che ti sudano le mani e devi scaldarti la voce in qualche modo. Mi sto cagando ad osso. Tra l'altro non c'è il bagno in questo camerino, quindi bisogna tenersela in questi casi. Sì, è abbastanza dura, però se c'è qualcuno che ti fa un'intervista non ci pensi più, non tutti sono così fortunati.